amici carissimi buongiorno ci ritroviamo a san donato perché ci ritroviamo per darvi contezza e continuità dei risultati celline di nardò o gli alore salentine sfacciatamente tornate sane questo ormai sarà l'hashtag del 2022 come potete vedere e vi faccio rivedere quello che anche l'anno scorso ho inquadrato di fianco la morte assoluta e l'abbandono per colpa di chi ha sempre detto non c'è niente da fare invece l'amico alessandro ha seguito scrupolosamente scrupolosamente i consigli che mi sono permesso di dargli il nuovo olivo la concimazione e la pulizia delle piante e questi sono i risultati amici miei di fianco le piante come potete ben vedere dall'altro video dell'anno scorso stessa cultivar stesso terreno stessa età ma purtroppo completamente secchi se non nella parte basale e ricordatevi che finché ci sono i polloni basali noi la pianta la possiamo tranquillamente ripristinare perciò da san donato è tutto oggi voglio ricordare 19 vero alessandro 19 febbraio 2022 celline di nardò e gli alore salentine sfacciatamente sane con nuovo olivo a proposito perché sfacciatamente sane e questo lo ripeterò ogni video di quest'anno perché agronomicamente queste piante sono tornate sane voglio ricordare che in agronomia qualsiasi pianta è malata come questa quando non solo secca ma quando smette di fruttificare mentre sempre in agronomia e finché non ci cambieranno i libri di testo di agronomia io continuerò a dirlo una pianta si dice tornata sana o risanata quando torna di nuovo a fruttificare queste sono tornate sane sfacciatamente sane queste hanno prodotto le olive alessandro 4 quintali 4 quintali di olive e 60 70 litri d'olio perciò signori miei sono tornate sfacciatamente sane da san donato è tutto un abbraccio e alla prossima